Se non sappiamo bene come dire cosa è il cielo E tante volte pensiamo a un cielo astratto Un cielo lontano Un cielo... Alcuni pensano Ma sarà un po' noioso stare lì tutta l'eternità Ma un cielo non è quello Noi camminiamo verso un incontro L'incontro definitivo con Gesù Il cielo è l'incontro con Gesù